Per la cosa dolorosa che hai vissuto nella tua vita, non ci fosse nascosta una perla? In natura le perle nascono dall'aggressione di un corpo estraneo a un'ostrica e si chiude, avvolge questo corpo estraneo con una lacrima, col tempo si indurisce e diventa una perla. A volte dalle sofferenze possono nascere le perle più belle. Forse tu dici no, per me non è così, per me è solo brutta quella cosa. Bene, nel nome del Signore ti dico, non hai ancora scoperto il tesoro che c'è dietro perché Dio sa trarre anche dalle nostre piaghe, anche dalle nostre ferite, delle feritoie di luce. Allora la benevolenza ti insegna a vedere il bene possibile in ogni cosa e concludo a cercare il bene possibile negli altri. A me colpisce.